Ciao a tutti da Parafranza e benvenuti in questo video, siamo con un ospite speciale Sono Ferdinando del Milano Vapors Da poco abbiamo fatto una collaborazione Esattamente, andatevelo a vedere, ve la lasciamo qui sopra in descrizione Nella i piccola E vi ricordiamo di iscriversi soprattutto al suo canale Milano Vapors Siamo qua apposta, porca miseria E anche al mio, se vi va, non siete obbligati Siamo qui per presentarvi un suo coltellino molto bello Adesso lasciamo la parola a lui che ce lo spiega Ecco qua, questo qua è il fodero del coltello Quello che lo contiene dentro La marca è La Guiol Qua abbiamo anche il certificato di garanzia del prodotto Andremo a vederlo nello specifico nell'unboxing Vi ricordiamo che questa qua è la puntata speciale di Natale Infatti oggi è Natale Siamo qui a registrare proprio per voi Non è vero, l'abbiamo semplicemente registrato prima Ma lo faccio uscire oggi che è Natale Andiamo a vederlo più in dettaglio nell'unboxing Eccoci qua l'unboxing Soffermiamoci un attimo sul certificato di garanzia La Guiol Bognà Giriamo dietro Qua c'è tutta la scritta E la data di acquisto Un piccolo cenno storico Ovvero che La Guiol è sì una marca Ma è una cittadina francese E tutti i coltelli prodotti in quella città Sono da classificare come La Guiol Perfetto Andiamo ad aprire il nostro coltello Questo è il fodero in cuoio Fornito insieme al coltello Abbiamo qua la clip per i pantaloni Molto bello e resistente Specifico per il coltello Ed ecco qua il coltello con il manico in palissandro Lavorato a mano Qua abbiamo la classica mosca con la molla O apre, non ho capito bene Comunque approfondirò Questa è la nostra lama E abbiamo qua il nome del manico E il modello Le Rustic Questo coltello misura aperto 19 cm Di cui 9 la lama e 10 il manico Di questi coltelli esistono molte varianti La mia è una Ecco qua Non preoccupatevi farò un video anche su questo Ma concentriamoci sempre su Il coltellino di oggi Allora è un coltellino classico Molto grezzo, molto bello Mi piacciono molto questi tipi di coltelli Tascabile al punto giusto E abbiamo anche questa forma della lama particolare Ve lo faccio vedere un'ultima volta Abbiamo un dispositivo di sicurezza Ovvero che la lama d'aperta passa a 90 gradi E come vedete si blocca E con un po' più di forza si va a chiudere Questo per evitare spiacevoli inconvenienti Ecco chiuso veramente particolare Molto bello E per questo unboxing è tutto Andiamo alle conclusioni Perfetto finito l'unboxing Qua il coltellino E andiamo a fare la prova di taglio Su un cartoncino Fa anche rima E come vedete Taglia Molto bene Ovviamente sono prove indicative Perché non sono fatti per tagliare la carta Ma per tagliare qualcosa di un attimino più grosso Beh direi che questo coltello Passa appieno la prova di taglio E per questo La Guyol È tutto Un saluto da Parafranz E da Ferdinando di Milano Vapers Vi ricordiamo un'ultima volta Di iscriversi ai nostri canali Milano Vapers In descrizione qua sotto Ci sono tutti i link Per accedere ai nostri social I suoi e i miei E per questo video è tutto Buone feste Buon Natale Ci becchiamo Alla prossima Ciao